Questa mattina abbiamo ascoltato le associazioni di categoria e coloro che ci hanno chiesto questo incontro per portare il grido di dolore di un intero comparto, che è il comparto del food e dei ristoratori, che sicuramente sta vivendo in una situazione drammatica a causa delle chiusure e di questa pandemia. Quindi certamente noi come regione abbiamo potuto mettere in atto quelle che sono le nostre politiche e chiaramente sono un piccolo aiuto che anche nelle prossime settimane vedrà compimento, ma il tema più grande sono i temi che hanno messo in risalto, l'accesso al credito, il tema dei ristori nazionali che magari non sono ancora completi e tutto ciò che deve essere rilanciato, e c'è il settore e anche il turismo in questa regione, quindi noi dobbiamo ascoltare e cercare di pungolare questo governo nazionale a mettere mano seriamente al rilancio del comparto e come regione dobbiamo invece immaginare di programmare un futuro migliore dal punto di vista del turismo e del rilancio anche dei trasporti e dell'aeroporto, perché credo che attraverso questi canali forse si può immaginare un anno zero. Il tema più importante è sicuramente quello dell'accesso al credito in maniera agevolata e perché queste aziende devono in qualche modo riprendere a camminare con una certa serenità.